Prima di guardare il video, voglio ricordarti di premere il pulsante iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Marta Fascina e la sua famiglia sono state obbligate a lasciare Arcore. L'onorevole di Forza Italia, comunemente definita «moglie» da Silvio Berlusconi, dovrà abbandonare Villa San Martino entro 90 giorni. L'indiscrezione divulgata ieri da Dagospia sembra trovare conferma in «Fonti autorevoli di Forza Italia», secondo quanto riportato da Repubblica. Dietro a tutto ciò, ovviamente, si intravede una motivazione politica, si è avviata una seconda fase e Fascina non può pensare di essere la prima in linea di successione, sembra essere il ragionamento attribuito a un alto dirigente del partito. I figli, naturalmente, desiderano avere il proprio spazio pur rispettando i desideri del cavaliere. Pertanto, Marta non dovrebbe stupirsi se nel partito trova un clima non particolarmente collaborativo. Tutto prende avvio dalla questione del testamento di Berlusconi, o meglio, dell'ascito a Fascina. Secondo numerosi esperti, potrebbe essere considerato nullo. I figli, a quanto pare, non hanno intenzione di contestarlo. Pertanto, come richiesto dal padre, intenderanno donare i 100 milioni di euro destinati alla compagna. Ma in cambio, pretendono che Fascina non avanzasse richieste eccessive e che dimostri rispetto nei confronti della famiglia. Villa San Martino, dove sorge il mausoleo di Berlusconi e riposano le sue ceneri, appartiene a loro. Di conseguenza, sia Marta che suo padre Orazio, secondo le volontà dei figli, dovrebbero lasciare la villa senza dibattiti, polemiche o azioni legali.